... Roberto Farnesi, un volto conosciutissimo soprattutto per quanto riguarda l'ambito televisivo perché ti abbiamo visto in tantissime fiction, però la tua carriera nasce da più lontano appunto tu sei pisano, quindi sei toscano e giovanissimo si è approdato ai fotoromanzi i famosissimi fotoromanzi Lancio che negli anni 70 insomma... Sono passati quasi tutti dalla Lorena, anche grandissimi nomi sì sì anche quella è un'esperienza, un'esperienza che si fa da giovane purtroppo e adesso credo che non abbiano più molto seguito, non lo so, non ho più seguito la cosa però anche quello è stato un modo per fare gavetta, per avvicinarsi a questo mondo poi il grande colpo di fortuna è venuto subito il cinema in cinema con una grandissima attrice, una grandissima professionista che è Monica Guerritore nel 1998 con Femmina con la regia di Giuseppe Ferlito che ha una scuola proprio qui a Firenze che si chiama Immagina e che io ho frequentato dopo il film ah dopo il film? dopo il film perché io... e lui come ti ha scelto scusa? lui mi ha scelto dopo quattro lunghi provini, alla fine si è convinto ma... e poi ha detto che si deve imparare a recitare questo dovrà dopo imparare a recitare, me l'ha detto in modo un po' più elegante però me l'ha detto e poi dopo ho frequentato la sua scuola perché sono tre anni e piano piano insomma comunque anche io ho fatto una piccola parte di un film di Ferlito quindi siamo quasi colleghi senti a parte questo dicevo Monica Guerritore, Monica Guerritore grande attrice donna dotata di grande personalità e carisma che tipo di rapporto si è staurato sul set fra voi due? ma buonissimo perché è stata una... per me è stata una maestra è ovvio poi avere la fortuna di avere Beppe appunto Giuseppe Ferlito che insegna nella sua scuola e un'attrice di quel calibro lì che ti insegnano la prima esperienza che ti guidano, ti portano, ti prendono per mano e ti fanno vivere questa avventura in modo anche costruttivo appunto imparando qualcosa è stata una grossa fortuna è una bella storia d'amore se non erro fra un giovane e una donna più matura no? sì però è una storia insomma un giallo un po' a tinte rosa diciamo e anche rosse sì è una cosa molto molto passionale tanto da spingere lei a desiderare la morte del proprio marito senti addirittura tu sei arrivata ad un certo punto che hai interpretato un film tipo Italian Gigolo qualcosa del genere per la tua somiglianza a Richard Gere ecco è nata proprio in base a questo o è stata casuale? ma fra un po' non me lo ricordavo manco io chissà a te dove te lo... prima ancora sì 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 e beh sicuramente sicuramente era dovuto alla somiglianza in quel caso senti e nel futuro prossimo? nel futuro prossimo cinema finalmente mi riavvicino al cinema con un film curioso surreale grottesco carino di cui sono protagonista che dovrebbe essere presentato al festival di Roma oggetti smariti senti fra le tue fiction quale preferisci? quelle da te interpretate? questa è la mia terra è stata una bellissima esperienza secondo me un gran bel lavoro e ultimamente ti abbiamo visto con Lola Ponce no? sì 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 quelle sono le commedie sentimentali che hanno un buon seguito riscuotono buon successo a volte le sappiamo fare anche noi i generi sono gli americani che fanno la commedia sentimentale invece anche noi per esempio in questo caso ho avuto un buon successo di pubblico un'ultima domanda sinceramente quanto ha influito nella tua carriera l'avere un bel aspetto fisico? beh sicuramente sai ogni attore poi interpreta il ruolo consono alla propria fisicità che no è chiaro che per fare l'amante della guerritore ci voleva in quel caso lì una certa fisicità per farle perdere la testa sono dei versati del marito insomma eh beh si presume che ti ringrazio grazie a voi ciao